buongiorno ragazze ciao a tutti e a tutti allora nuovo video blog o meglio dire chiacchiericcio come state spero bene e niente dunque io appena ho fatto colazione e non mi sono andata ancora una restaurata ma prima o poi me la darò e nulla io nel frattempo ho già fatto colazione mi stavo dicendo e come dire ho ancora due video su youtube non molto perché poi devo fare anche altre cose mie quindi non mi andavo a guardare trovi video su youtube ho preferito se è utile guardare pochi video e fare video di fatti miei e niente aspettate un attimo un secondo allora riescomi ero andata a tra posta le cosine e riaccomi di ritorno ciao questi occhiali non vogliono visti quanto sono giù ma vabbè noi non ci facciamo casa io tra poco devo fare la spesa perché non ci ho quasi più niente in casa quindi mi sembra giusto che andare a fare la spesa già dunque bene io ancora non ho la ben che minima idea di che ti avrei fare che cosa fare oggi perché volevo fare un video estrae lungo ma non so quanto lungo la guarderete boh vabbè niente io qui intanto c'è la mia bella colazione che è già finita ma intanto non ho bevuto una bella tazza di caffè che non è qua allora dunque mi stavo dicendo che ho preso il caffè con la mia solita tazzina quella tazzina che vedete sempre nei miei video vlog e dopo di che ho preso il protettore dello stomaco e poi nulla ho preso una bella tazza di latte e questa qua sarebbe questa tazza che vi ho fatto vedere questa tazza qui è piena e praticamente vi dicevo questa è la tazza di mio padre questa qui è quella dove prende o il latte o le tisane o il tè bellissimo e buonissimo qui dentro esce di tutto molto buono anche la cioccolata calda perché prendo qua si la cioccolata calda e avevo detto ce la prendo si esatto vabbè per l'acqua la prendo una vuota ogni tanto qua dentro ma non sempre mentre per quanto riguarda aspettate un secondo no vabbè non c'è tregua qui non c'è proprio tregua comunque vabbè nulla alla fine devo dire che stamattina il tempo non è il massimo ma speriamo che migliori vi faccio vedere come il tempo aspettate un secondo vedete come il tempo di qua vedete un attimo vedete come il tempo di qui beh non è malazzo dai via è piuttosto bello il tempo un po' freschetto fa adesso ma vabbè dunque allora eccomi qua vi volevo dire che tra poco mi trucco perché così non posso stare anzi vabbè non ho un colorito da mozzarella ma quasi quindi cosa faccio adesso mi do quella faccia poi mi abbellisco un pochettino e vediamo un po' cosa mi propone la giornata da fare ok? e niente a dopo dai ragazze c'è qua tanto mi sto ridefinendo le sopracciglia allora questa matita è bella rinverla 100 no aspettate cosa 100 001 black brown ve lo metto così così lo vedete meglio sì questo è dove? come? il fissante dove sei? ecco ti può allora brown partist brown partist plump e set l'oreal sì sì comunque l'avete visto questo e la numerazione si è cancellata ma tanto la saprete perché ve la scrivo ve la trascrivo migliaia di volte nella infobox e nella descrizione del video non sempre ve la scrivo ma talvolta sì allora adesso la vado ad applicare sulle sopracciglia dal modo tale, dal modo che queste sopracciglia rimangono belle fisse e non si muovino di lì che non sia blush che non sia blush che non sia blush sono manaccia posso andare posso mandare non metto correttore ragazze stamattina perché però appena minuita ecco che si vedrà la macchietta ma chissene anche se con la maschina si vede con la mascherina si vede quindi si sei vero lo so, volevo mettere questa azzurrina della Rimmel, che cos'è? 121 azzurra, sì, 121 azzurra, certo, non c'è con durin o blush, no, prima il blush, meglio, così dopo riscaldiamo con l'incarnato, allora, dunque, dunque, dove il mio pennello? Eccolo qua, non ho trovato questo, questo qui, preso da Pinky Panda, sempre al solito, allora, dunque, allora, ecco qua, ma si vede? No, ho l'impressione che non si veda una mazza, un pochettino già, sarà, ma, io dalla telecamera la vedo, bianca come non so cosa, come un calaverino, e poi vedere, e quindi si vede, ma, dallo specchio, ... tutto quanto riguarda, il vende, Harvard, mi limita, sono pezzi Non c'è un po' di più. Mi sa che questo abbigliamento non ci sta stamattina, fa un freschetto. No no no, deve essere troppo un'altra cosa che migliora. Dunque... Allora, ho cambiato idea. Aggiungiamo un po' di matita blu, quella matita blu azzurrina. Se la trovo, perciò non è manco detto che la trovo. Dove è finita? Dove è finita? Allora... Io te l'avevo qua po' fa. Attendete un attimo, metto pausa e torno. Allora ragazzuole mie, sapete la mia novità? La matita che stavo cercando prima, non la trovavo. Perché? Ce l'avevo sotto il naso. Io che devo installarla cercando, non so per quante ore, qua dentro. Il mio porta beauty. Cioè il mio porta trucco, come dovete chiamare voi. Invece ce l'avevo sotto il naso. Il maschera è invece dentro. Guardate quanto sono genia io, già. No, io non lo so io, ragazze mie. Ogni volta è così. Non so se a voi capita che avete una cosa sotto il naso e non la vedete. Ecco io sono così. Vabbè, facciamo stare. Allora, questa qui perfettamente era della Riven. Che cos'è? No, ho già preso. Oh no. Sì. Allora questa matita qui era 121 azzurra. Questa qui sarebbe. Che semplice così si muore. Mentre il mascara che mi ho appena applicato è 001 black della Rimmel. Già. Semplice. Vabbè. Non commenti. E nulla. Allora. Mi piace le fatte come potete ben vedere. Sì. Questo pennello torna a suo posto perché tra poco lo lavo. E poi. Mi metto qualche rossettino. Vediamo. Magari me lo metto per fare un prossimo video. Chi lo sa. Perché questo tra poco lo taglio e lo diminuisco. Quanti minuti siamo che sta registrando? 14? 15? Quanti siamo? Poi non lo vedo. Senza occhiali. 14 minuti scarsi. Va bene dai. Ci si becca dopo. A dopo. ora mi vado a vestire con una cosa di più caldo allora rieccomi alla fine mi ha messo questo abbinamento vedete con questa maglia che non so cosa c'è a Zecca però mi è piaciuto un casino e ho scelto questa si ragazzi mi vedete gonfia ma non lo sono vi giuro che non sono gonfia e vabbè aspettate che vi allungo di più il braccio del mio vedete non si vede una mazza ecco questo è vabbè le scarpe le devo mettere ancora devo ancora riuscire ma tutto il resto mi fa piacere come sono è un pantaleggings io ormai ho la moda dei pantaleggings ovvero la moda più che altro mi piace il pantaleggings e continuo a portare i pantaleggings punto e basta è nulla allora ragazze intanto mi ho già fatto il letto io non so perché faccio questo letto fatto così ma vabbè allora anche dall'altra parte attende un attimo mi sta scendendo una lacrima sul viso già una lacrima sul viso già ok no ok non accederboli allora ragazzuole mie vi saluto qui perché ti ho donato troppo il video se vi è piaciuto il video mettete un bel like e perché no fatemi sapere con un commento iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati in un prossimo nuovo video ciao un bacio ciao ciao